caro sogno, stanco, morto, Marie Kugui, Barsas, proprio ieri e oggi due giorni tremendi proprio proprio delle clienti non affezionate di più, sogno stanco ma nello stesso istante soddisfatto e emozionato, soddisfatto e emozionato sia per questi due giorni ma soprattutto perché mi ha appena contattato lo chef Mavilla, lo chef Mavilla, l'organizzatore della nostra serata di domani sera, non scudassero caro Manasira siamo a Palmentiamo in via Catania 29 a Tre Castagni per la nostra prima serata ufficiale e Mavilla è l'organizzatore, chi ci ha scelti, chi ci ha scelto, lo chef Mavilla, mi chiamavo, mi disse Nunzio, abbiamo superato ogni record, non vi posso dire il numero esatto degli ospiti ma abbiamo superato ogni record, io ci rissi subito, io non vorrei che domani siccome il palmento è su più piani, non vorrei che domani si etto non rirà, se mi levano un tavolo e non ciò che mangiamo, no perché sono follower nostri, sono follower reali questi, poi domani lo vedrete perché domani farò tanti video, quindi domani capirete se sono follower reali o no, sono clienti di Mavilla, certo, perché ho paura che si etto non rirà le cancellate, che mi levano un tavolo e non ciò che stai mangiando, no perché possono accadere queste cose quando si è special guest, quando si è special guest, no quando si è a così, vabbè comunque, a dopo, a dopo perché ancora il conte non c'è, come vedete il conte non c'è, sogno solo, ma non levo sta cosa che le mie orecchie mi stanno gritando abbi pietà di noi, leva stampa radà, facci respirare, e hanno anche ragione, amo di lato l'ultima cosa, ragazzi ecco mi sono arrivato, vi voglio dire una cosa, ho ritardato perché ho parlato con lo chef Salvo Mavilla, mi ha detto che domani alle 21 e 30 il locale, la location sarà chiusa, perché abbiamo raggiunto il massimo oltre il massimo, quindi chi vuole venire dopo troverà la location chiusa, però c'è un'altra bella notizia, a marzo ci saranno altre due serate, quindi avrete altre possibilità ragazzi, quindi purtroppo lo chef ci ha chiesto di fare questo video dicendovi di non venire dopo perché la serata è a porte chiusa, numero chiuso, si è riempito il locale, basta ciao a dopo, ciao a finire, ciao ciao